Ciao a tutti! Ciao a tutti! Scusate! Scusate! Io non ho visto più una cosa, allora oggi... Ciao a tutti! Oh! Cosa è successo? No! Gioco nessuno! Aspettate! Ok! Ora la linea va! Allora, oggi giocheremo a Brawl Stars come avete visto e nel nostro episodio se vi ricordate, siamo andati a giocare con Corpion e Palena Prendiamo queste gemmette e già non abbiamo connessione ce l'abbiamo proprio però camminiamo e troviamo Bull Ciao Bull! Allora, facciamo questa bella partitella Non c'è nemmeno la linea qua dove l'ho messo quel coso non posso nemmeno bloccarlo quindi dovete... non posso mettere in pausa però aaaah non c'è la connessione eh è... ts 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 tsnt aaaaaah mantciamo Carmine eh... Cuomo carmine... put recuper... cuidado... beh dai sono morto! si sono mortissimi uffa direte buttare uff ok infatti ora non c'è più questo questo da qui e oggi faremo quello uno spacchettamento incominciamo non abbiamo trovato niente non ho trovato almeno un brawler ancora ho trovato barrel bene ho trovato barrel bene devo trovare tipo un altro non ho trovato barrel l'ultima speriamo di trovare qualcuno qualcun altro intendo ma niente ho trovato barrel posso pure la cassa gratuita eh sì non lo posso prendere questo nemmeno niente ovviamente niente posso prendermi quasi niente 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 bene però ho trovato barrel questa cosa è buona beryl oh mio dio ragazzi ora ora proveremo i ride con beryl devo spostare questo taggino se no se devo devo mettere in pausa ok non prendersela con me mi raccomando da dietro da dietro saluto alleato sconfitto scappa siamo ora in difficoltà normale bene ti vedo stupido robot stupido robot bam 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 no no scappa ok rigeneriamo la vita e andiamo a combattere no 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 con me non ce la devi vivere amico no 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 ok non ho scappato bene non ho poca vita allora lori scappa rigeneriamo un po' di vita ma siamo saluti si rigeneriamo bene ora ammazziamolo ma non mi trovo con beryl trovo più con è il primo perché è forte ce l'ho ben migliorato al grado 15 tutto bene ma sono rimasto solo io no come è possibile guarda quello è ovvio che c'era con il robot solo io ci sono se muoio io è la fine c'è di nuovo un amico lato dovrei usare la mia super tanto si rigenera no no e vabbè dai ok c'è pure lui ok ok benissimo ok siamo tutti siamo tutti dai attacchiamo vengo e vabbè però dobbiamo mettere qualcuno con più vita lo so che mi piace carlo o qualcun altro dai e c'è la con me no ha ha ho fatto quasi niente scappa loris scappa l'attacco da qua eeeh in questa modalità è molto buono colt nooo sono morto colt perchè attacca davvero da lontano e poi fa più colpi oh mio dio loris non morire loris 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 come sono sopravvissuto io puoi sopravvivere sopravvivere tu vai loris vai loris vai loris vai loris loris non so manco a dire il tuo nome scusami ah oh oh siamo tutti siamo tutti siamo tutti all'attacco no aiuto l'ho stato poche volte sconfitto si una volta qui no c'è morto loris scappa no 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 dai abbiamo perso che devo mettere colt direi di mettere colt così eeeh avremo più possibili possibilità di vincere con colt andiamo con questa cosetta non c'è niente andiamo a provare colt così almeno facciamo qualche danno al robot così scappiamo e facciamo danno e infatti due colt oh questa squadra potrebbe andare anche bene eh due colt e uno è il primo quindi un tank c'è la conterasi in Milano ora con me oh però facciamo male eh no il nostro tank il nostro tank il nostro tank che non sappiamo il nome perchè io ho un'altra lingua buongiorno signore cosa desidera mi sa che poi ho un abetto ce l'hanno tutti e due con me eh no son morto Fran non morirmi grazie ok voi siete in due attacca perchè ti metti davanti eh per forza muori oh mio dio mio dio mio dio mio dio wow che fortuna che sederino nha due colt due colt due colt uno un scappo amico no bababam 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 eh eh permette di fare questo sta morendo agli altri sconfitti si è rimasto solo io aia oh mio dio no 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 tu non fai niente vero vai via ok ok siamo almeno in due almeno non ho tutta la io ho la responsabilità ok ora è meglio perchè siamo in tre un po' di parlare oh oh bah e no scappo nah non mi attaccare stupidino robot stupido non so che sia un megaboss no 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 ha? eh? fregato ma che spacchi la mappa mo me lo devi dire eh perchè oh mio dio 50% 48 non so che vuoi venitela un po' con lui dai fra ok stiamo in due stiamo ancora in due l'altro non si sa dove sta l'altro colt colt vieni ad aiutarmi oh no oh mio dio no hm ok eccolo l'assimiliano sai che qua vinciamo eh ok siamo tutti siamo tutti vai ho la super attacco oddio quanto è emozionante no lo attaccate stesso no no quanti siamo non mi dire è l'ultimo beh 30% dai siamo stati forti allora ragazzi spero che il video vi sia piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale mi raccomando e ci vediamo alla prossima ciao eh no per ah sono sbagliato ciao ciao Grazie per la visione!